Eccoci qua, bentornati. Bentornati, amiche ed amici, ad una nuova puntata di Strada Sicura. Una nuova puntata, come avete già visto dalle precedenti puntate, noi tocchiamo tutti gli argomenti che riguardano automobilisti, pedoni, ciclisti, scooteristi, tutti coloro che vanno su strada. E lo facciamo con uno dei migliori aspetti possibili, perlomeno su piazza, che è Marco Pompili. Ciao Marco, buonasera, benvenuto di nuovo, bentornato come si dice, perché sei sempre con noi. Ti stai divertendo? Sì, bellissimo, posso dire un'esperienza meravigliosa. Sono veramente felice, abbiamo ideato questa trasmissione grazie ai nostri commerciali, grazie a Luciano Nevi e agli alunni che hanno a suo tempo pensato a questa cosa. Per me è un'esperienza nuova, mettere un qualcosa a me stesso, a livello culturale, personale, tra cui è bello divulgare delle notizie che tante volte si danno un po' per scontato. E allora facendo riferimento a determinate cose, argomenti, stupidaggini che possono sembrare, però tante volte a qualcuno attira l'attenzione e dice Ah ma io non sapevo, io pensavo che fosse caruccio, simpatico. È bello, bello, bello. Beh sì, poi è una cosa, allora è chiaro che io ho detto, facciamo un piccolo inciso in partenza di trasmissione, è chiaro che io ho sempre detto che voi fate un mestiere comunque complicato, no? Perché comunque hanno una responsabilità importante, io veramente credo che quello di insegnare ai nostri figli, perché Marco da poco ha insegnato a uno dei miei figli che ha preso la patente appunto per la motociletta, quindi insomma sia una responsabilità grande, bisogna saper fare il proprio lavoro e questo in tutti gli ambiti della vita, ma perlomeno così dovrebbe essere, ma in generale nello specifico qui parliamo di responsabilità forti, ok? Perché comunque tu non solo responsabilità mentre stai insegnando a qualcuno come si va, perché tu comunque rimetti in macchina, io mi sono sempre chiesto, voi pensate alla prontezza di riflessi che deve avere un istruttore, giusto così no? No, noi dobbiamo prevenire il ragazzo, controllare davanti, destra, sinistra, dietro, contemporaneamente, allora dobbiamo avere una visione a 360 gradi di tutto quello che accade e prevenirle le situazioni, infatti tante volte può accadere che anticipi un attimo il ragazzo perché può esserci una situazione che si può evolvere in maniera un po' negativa, il ragazzo ti guarda, ma io avrei frenato, ma io avrei fatto, no, tu devi già averlo fatto, allora dobbiamo cercare in qualche modo di anticipare un po' tutte le situazioni, non è faticoso a livello fisico, ma mentale, a livello mentale, a livello di stress ragazzi, da fine giornata si sente diciamo. Io credo veramente di sì, e voi dovete fare poi fra parentesi dei, cioè non è che uno si sveglia, apre una scuola guida, no? No, cioè prima dobbiamo fare una scuola, fatta la scuola, ci sono da sostenere degli esami, sostenuti degli esami, poi dopo alla fine si può aprire tra parentesi, chiedendo poi un'autorizzazione alla provincia. E dovete anche suppongo, poi dopo tu quando per esempio tu hai, cioè ok questo sei tu, ma poi dopo quelli che lavorano per te? Uguale, no la procedura diciamo più o meno la stessa. Sì, quindi devono comunque fare, però devono fare degli esami, devono superare degli esami. E ogni due anni abbiamo un corso di aggiornamento. Ecco, capite che quindi insomma non è proprio un giochino. Oh, in tutto questo non bastasse tutto quello che ci ha appena detto Marco a livello di stress, che già niente non è, ci si mettono pure i nostri prodi architetti della rete urbano, quando dico nostri dico italiani, chiaramente non ternati, ci mancherebbe, che ci stampano, e questa è la seconda puntata che noi dedichiamo all'argomento, perché era talmente grosso che una sola non bastava, ci stampano le rotonde, dette in gergo tecnico, diciamolo giusto, rotatorie, ok? E quindi siccome sono praticamente, credo insieme, abbiamo detto l'altra volta, ai telefonini, alle distrazioni varie, alla velocità, penso siano la prima causa di incidenti ormai su piazza, cioè a livello urbano credo che insomma quello che succede accade quasi tutto sulle rotonde, noi ci abbiamo dovuto fare due puntate con la nostra troupe, tutti i nostri ragazzi, Alessio, Fabio, Iuri, Lorenzo, Fabrizio, sono tutti andati in auto con il prode Marco e con i suoi, e siamo andati in giro per la nostra città, Terni, a prendere dei contributi e farvi capire quello che si deve fare, ma soprattutto quello che non si deve fare. E allora questa sera apriamo la nostra puntata con una rotonda che potrebbe essere definita mini rotonda, ma che è estremamente significativa per la nostra città, perché è proprio quella piazzata davanti a Palazzo Spada, quindi alla sede del nostro municipio e del Comune di Terni. E anche quella è foriera di sventure abbastanza spesso, perché è fatta in una maniera complicata, per quanto sia piccolina, per quanto c'è un palo e un'aiola in mezzo, però insomma la gente ancora non ha ben capito quello che deve fare. E allora andiamoci a vedere il primo contributo di questa sera e poi ne parliamo insieme con Marco. Eccola qua, sullo sfondo vedete, eccolo laggiù, il nostro bel Palazzo del Comune, questa è la rotonda. Nel affrontare la rotonda, la rotatoria, il veicolo venendo da sinistra si è fermato a darci la precedenza e io inserendomi all'interno della rotatoria mi sono fermato a dare la precedenza a destra alla bici che sopraggiungeva. In questo caso è una rotatoria all'italiana con la precedenza a destra. Non troviamo il dare precedenza all'ingresso e allora a quel punto diventa un classico incrocio con precedenza a destra. Ecco, perché? Spieghiamola poi, guarda Yuri, credo che intanto la puoi rimandare perché è veramente venuta carinissima e poi sembrava fatta apposta, abbiamo beccato una macchina, vedete? Eccola qua, bravo, grande Yuri. Che è stato anche bravo, che ha rallentato, è stato perfetto. Perché? E rimaniamo così, perché? Perché abbiamo detto l'altra volta, ci sono delle rotonde che non hanno, sono rare ormai, ma questa è vecchissima, e ci sono delle rotonde che non hanno indicazioni differenti sul dare la precedenza o eventuali stop. Poi si creerebbe anche un problema dove applicare e dare la precedenza, perché la piazza è molto grande. Esatto. E allora si creerebbe un problema dove mettere il segnale. Quindi, esatto, quindi in questo caso cosa succede? Siccome, come ci ha detto il prote, ragazzo della Polizia Municipale di Rimini, l'altra volta, le rotonde sono intersezioni, giusto? Sempre, ricordiamo sempre che le rotatorie sono intersezioni. Vedete poi, posso aggiungere, chiedo scusa, il ciclista, la ciclista è stata perfetta. No, ha messo l'indicatore di direzione. Con la mano, lo sai, non ci ho fatto caso? Sì, non l'avevo fatto caso neanche io, però bisogna fargli i complimenti alla signora. Bisogna fargli i complimenti alla signora, che è stata bravissima, ha indicato che voleva svoltare. E questa è educazione, questa è educazione stradale. Ecco, e si vede, e qui, ecco, ci ha fatto vedere, ci siamo fermati. Poi, qui c'è un'altra chicca, perché vedete, qui facciamo vedere anche un'altra cosa, perché poi le abbiamo beccate tutte, ma è stato veramente un caso, ragazzi. Pure il pedone sulle strisce, vedete, ecco, questo è importante, perché fuori onda, mi raccontavi l'altra volta, quando abbiamo selezionato tutti i nostri lavori, una cosa importante sulle strisce, facciamo una piccola digressione dal discorso rotondo. Giustamente tu mi hai detto, quando uno attraversa, tu non è che quando quello è passato, quindi non è più in traiettoria, devi ripartire. Ah, sì, giusto. Tu mi hai spiegato che invece bisogna fermarsi fino a che non ha completato l'attraversamento. O perlomeno sia in sicurezza, in modo tale che se dovesse cambiare idea, perché noi che cosa facciamo? Seguiamo con lo sguardo il pedone. Una volta che il pedone è passato, io guardo davanti e riparto. Se il pedone dovesse ritornare per un qualsiasi motivo, ok, gli è caduto un qualcosa, oppure devo andare a prendere e ritorna indietro, per me è il mio campo visivo, ma sfugge. Io guardo fisso davanti, proseguo e me lo ritrovo di nuovo davanti. Invece io devo attendere, poi la cosa corretta sarebbe di ricontrollare di nuovo a destra e ripartire. Sì, perché guarda, Yuri, con calma, tranquillamente, se puoi riprendere il frame proprio finale, quello dove sta il pedone davanti alla macchina, dove ci siamo noi fermati, effettivamente questa... ecco, perfetto, guarda Yuri, vedi? La bravura dei nostri tecnici. Guardate, è questo il discorso, perché lui sta attraversando, noi ci siamo fermati. Ma se per caso... Io andavo a passare. Tu passavi e lui magari torna... cioè è successo, io ve lo dico a me, io ricordo perfettamente, vi dico pure dove, a Bologna, stavo correndo per andare a prendere il treno, avevo gli occhiali da sole, stavo attraversando, mi cadono gli occhiali da sole, quindi che faccio? Mi rigiro, torno indietro e ora macchina a momenti mi c'entra, perché si era fermata, ma vedendo che io attraversavo sulle strisce, stava ripartendo. È andato per scontato. È andato per scontato, invece mi cadono gli occhiali da sole, torno indietro, quando mi rimetto in traiettoria, per un pelo non mi prende. Sono passati 30 anni a questa cosa. Però è vero, quindi questo è un altro errore che spesso non facciamo, perché diciamo, vabbè, attraversato, ripartiamo, e invece no. Un attimo di attesa. Un attimo di attesa bisogna concederlo. Vero che stiamo sempre di corsa, però... Abbiamo visto un caso particolare, cioè quello in cui le rotonde non abbiano indicazioni chiare e precise orizzontali, giusto? Sì. O verticali uguali, insomma, sul dare la precedenza. In questo caso la piazza è molto ampia davanti al nostro comune, davanti al Palazzo Spada, quindi lì vige esclusivamente che chi viene da destra passa sia una macchina, sia un ciclista, sia un motociclista, qualsiasi altra cosa. Ok? Precedenza da destra. Adesso torniamo un pochino nel concreto, invece, ad altre rotonde, perché l'altra volta abbiamo fatto vedere dei casi di rotonde che erano ubicate un po' in periferia della nostra città, no? Solo corsia. Con una sola corsia. Invece adesso andiamo su quello che è complicato, ok? E iniziamo a far vedere, io inforco gli occhiali, Marco, perché l'età purtroppo avanza, e iniziamo a vedere cosa vuol dire dare la precedenza all'interno della rotonda oppure no. Quindi andiamo a vedere il primo contributo video realizzato da nostri ragazzi. Qui siamo a Maratta, la zona industriale della nostra città, si vede, guardate quante auto circolano, strada di missione a due corsie, ci fermiamo. Diamo la precedenza. Diamo la precedenza e ripartiamo. E qui facciamo la seconda uscita, siamo andati dritti, è sempre indicatore di direzione, rimanendo sul lato esterno a destra. Esatto, quindi se lo rivediamo, Yuri, e lo rivediamo bene, noi ci fermiamo qui perché dobbiamo dare la precedenza, ok? Qui subito, questa rotonda è fatta in modo che ci sia subito una svolta a destra. Quindi noi non dobbiamo mettere qui la freccia, ma superiamo e qui mettiamo la freccia. Quando sto per uscire. Per indicare che andiamo dritti, perché andare dritti, Marco, vuol dire uscire dalla rotonda. E quindi dobbiamo mettere la freccia, questa è un'altra cosa che non fa quasi nessuno. Dice vado dritto, no, non vai dritto. Ma non funziona, le leve sono bloccate. Dobbiamo mettere l'intelligenza artificiale, proviamo con chat GPT anche sulle frecce, perché forse funziona. Però ecco, quindi uscendo anche dritto per dritto, come usando un termine molto ternano, anche dritto per dritto comunque si esce dalla rotonda. Quindi ricordatevelo, non subito, perché se no uno va in errore, perché c'è subito una svolta a destra, vai dritto, quindi metti comunque l'indicatore di direzione e la freccia. Andiamo avanti invece sul secondo contributo. Ecco, qui è divertente, poi dopo ce n'è una proprio meravigliosa, ma anche questa è piuttosto complicata, che è la corsia interna, perché è qui che è veramente difficile. E quindi Marco ci commenta il video che parte. Allora, qui affrontiamo la rotatoria facendo il giro, ci posizioniamo sulla corsia di sinistra, ci predisponiamo, indicatore, mantengo il lato sinistro, poi poco prima di uscire, indicatore a destra, mi sposto vicino al lato destro e poi esco. Prima di uscire controllo sempre a fianco, non diamo mai per scontato, perché se un altro veicolo dovesse avere la stessa nostra idea di mettersi a fianco, come diceva quello della municipale, o rifaccio il giro, oppure mi fermo, e poi dopo lui si inserisce e poi io mi sposto. Quindi cerchiamo di capire qual è la grossa difficoltà, ribadiamolo ieri mentre commentiamo. La grossa difficoltà Marco è questa, quando ti trovi sulla corsia interna, sulla rotonda sono sempre dolori di pancia, perché purtroppo un po' tremmi, perché poi c'è il traffico a destra, ora qui è andata benissimo, perché poi tu a destra avevi tutto libero, però chi sta interno per andare a destra, non è che non può farlo, ma dovete considerare che voi incrociate la strada di un altro veicolo. Quindi lì dovete mettere la freccia e aspettare, perché non è che dici metto la freccia e mi butto, no non funziona così, non è che la freccia poi ti fa uno scudolo tipo astronave di Star Trek, no non funziona così, mettere la freccia è un indicatore importante, ma poi devo aspettare che non vi sia nessuno. Altra cosa, come hai detto tu e come ha detto il membro della Polizia Municipale di Rimini nell'altra puntata, se vedete che continua a venire, ma che è che vi potete fermare in mezzo alla rotonda e bloccare il traffico? Rifate il giro e rallentate e aspettate di poter entrare. Posso raccontare un aneddoto? Ne approfitto, io tante volte sulle rotatorie, quando arriviamo rimanendo sulla corsia di sinistra, dovevamo camminare a destra, i ragazzi sono a sinistra, tranquillamente non gli dico nulla, arriviamo all'interno della rotatoria, poi gli dico usciamo alla prima a destra? Loro ti guardano, guardano a fianco, mettono l'indicatore, io voglio andare a destra, ma da qui non ci posso andare, no tu ci puoi andare, no io non ci posso andare, tu ci puoi andare, conoscenza dell'uso corretto della strada. E ma allora si preparano per tagliare, ma c'è la macchina, gli andiamo addosso, facciamo un incidente, allora che facciamo, che cosa hai, qui mentre siamo nel traffico, tutto questo, che non è poco, allora dice che cosa hai tu davanti? Eh dopo ragione una rotatoria, e la rotatoria cosa ti permette di fare? Allora a quel punto si rifà tutto il giro della rotatoria e si riprende la strada che noi dobbiamo prendere, ma tante volte ne approfitto del loro errore per fargli capire come noi possiamo correggerci senza rischiare nulla. Esatto, vale più la pratica della pragmatica, questo è la realtà, cioè questo è un po' come quei pazzi scadenati che vedo fare in versione in autostrada perché hanno mancato l'uscita, cioè se manchi l'uscita prendi quella dopo, esci, rientri e riesci, cioè ok la rotonda è uguale, se vedete che c'è traffico e non riuscite a tagliare la corsia perché state nella corsia interna, si fa il giro della rotonda un'altra volta e si aspetta di trovare un modo per infilarsi perché prima o poi il modo lo trovi, troverai quello che ti fa passare, troverai il momento di vuoto del traffico, però non fate mai che metto la freccia e taglio perché poi se vi c'entrano, è lì, non vi salva nessuno, non c'è neanche il concorso di colpa perché se tu mi sei entrato io voglio fare. Beh, nell'immagine che vedremo poi mi sono capitate due o tre fatti di ragazzi che hanno preso la patente con noi e allora diceva, ma senti no mi è successo l'incidente perché mia figlia stava girando che, in pratica il veicolo dall'interno tagliato dritto mentre loro stando sul lato testo facevano il giro e l'hanno preso in pieno, allora chi era all'interno gli ha detto no no tu hai torto perché devi dare la precedenza a me che io sto uscendo dalla rotatoria, ma in realtà chi è che fa il cambio di corsia? Chi è che viene da destra? Il ragionamento è abbastanza semplice e andiamo a vedere però il ragionamento, guardate perché questa è veramente in maniera totalmente casuale, però vi faccio vedere una cosa che questa rimarrà negli annali della nostra televisione, perché guardate il prossimo contributo, che cosa è successo mentre i nostri ragazzi stavano girando questi contributi? Stiamo affrontando la rotatoria rimanendo sul lato destro. E guardate che succede? Bam! Arriva questo e taglia completamente la corsia. Fortunatamente Marco, in auto con Fabrizio o con Yuri, non ricordo. Sì sì ma abbiamo, non so se poi c'è un'altra ripresa che fa vedere, eccolo. Guardate quindi Marco che sta guidando, guardate che bello che abbiamo fatto, questa è veramente altissima televisione, pam! Questo scienziato... Senza aver rallentato minimamente poi, senza indicato, tagliato dritto, dritto... Avete visto la pericolosità? Perché io poi, vi dico sempre questo, io divento furente, avendo comunque un figlio su strada e un altro che va in motocicletta, come sono motociclista io, come tutti sanno, se ti prende con una macchina, ok, se ti prende con un mezzo a due ruote, con quella manovra, ti fai male, tanto, perché quello non ha neanche rallentato. Allora che nel 2024 vada in giro gente che taglia una corsia, in quel modo una rotonda, così con questa pericolosità, senza rallentare, è inconcepibile. Poi raccontiamo gli aneddoti per cui io scendo, cioè in quel caso lì poi dopo succede che... Può succedere che dopo io scenda, ok? E dopo discutiamo. Però veramente, guardate, perché vi rendete conto, Yuri puoi rimandarla un attimino, rendetevi conto di quanto sia... Sì, infatti mentre facciamo le riprese, mi sono accorto e ho detto, riprendi a fianco che adesso ci taglia la strada. Eh, guardate... Nel girare controllavo lo specchio sinistro. Guardate che cosa... Cioè, questa, ragazzi, è di una pericolosità, ma vi rendete conto? Oltretutto, ripeto, senza alcun rallentamento. Sì, ma se io avessi fatto come normalmente uno convinto, metto la freccia a sinistra, giro e non guardo nulla. Quello di centrale. Fortunatamente, non so se è una deformazione professionale o quello che sia. Guardi lo specchietto, per fortuna guardi sempre, controlli sempre, guardate. Cioè, guardate quanto passa vicino. Sì, proprio fermo, completamente, proprio bloccato, neanche ti ho rallentato un attimo. Questo veramente mi manda in bestia. Andiamo avanti invece, perché siamo un po' stretti che abbiamo chiacchierato tanto questa puntata. Andiamo a vedere l'altra invece, l'altro contributo, che è l'inversione sulla corsia interna, perché appunto è quello che ci serve. Siamo sempre in zona maratta, quindi zona industriale di Terni. Andiamo a vedere, Yuri. Eccoci qua. Ecco, qui mi sono predisposto in anticipo sulla corsia interna. Perché già sapevo che devo fare inversione, quindi mi sposto sulla corsia interna. Io posso usare anche quelle di destra, però se posso spostarmi è più sicuro. Certo. Poi poco prima di uscire, indicatore. Anche davanti a te, quello l'ho messa la freccia, vedi? No, no, no. Quello è stato bravo. È stato poi indicatore destro e tento poi a portarmi a destra. Se io non posso portarmi a destra, rimango sul lato sinistro, poi quando si libera la strada, ritorno poi a destra. Abbiamo detto, perché poi se fosse venuto uno dal lato esterno, tu ti dovevi fermare perché gli tagliavi la strada. Ma l'abbiamo detto tante volte e questo è, diciamo, la base di tutto. Sì, perché a fianco si erano create altre file a quel punto. Allora, per non tagliare e non fermarmi, visto che abbiamo a disposizione due corsie, rimango sulla corsia di sinistra, a quel punto è una marcia per file parallele, dopodiché quando la strada si libera si ritorna a destra, lasciando libera quella di sinistra esclusivamente per il sorpasso. E infatti, l'abbiamo studiata, non è che è venuto per caso, e il prossimo contributo fa proprio questo. Cioè, andiamo a vedere invece dalla corsia esterna come si fa in versione di marcia. Anche questo va studiato bene. Allora, Iuri ce la manda, vedete? Ecco qua. Qui effetto, sempre indicatore. Esatto. E qui, poi, ci spostiamo. Oh, mi sposto di qua, vedete? Le due differenze, che non c'era nessuno a fianco, che andava nella stessa direzione, e allora ho potuto spostarmi prima, così almeno ho lasciato subito libera la corsia di sinistra. Ok, ecco. Allora, Iuri guarda, rimandiamo un attimo quello precedente a questo, così almeno facciamo capire bene a tutti quali sono le differenze, e qui facciamo proprio didattica. Quindi se rimandiamo il contributo precedente, così facciamo vedere, eccolo qua. Allora, qui siamo sulla corsia interna, giusto? Nel girare, poi come vediamo i veicoli, in realtà non si fermano mai. No. Sinseriscono sempre. Allora, mandiamo, rimaniamo qui, perché noi che cosa analizziamo? Analizziamo che noi, dovendo andare dritti, ecco, qui è il pericolo. Sì. Perché se uno sta esterno, noi questa cosa non possiamo farla. Allora, guardate a fianco, gli altri veicoli che ormai si erano inseriti a fianco, visto con la scusa che io ero sulla corsia interna, andando nella stessa direzione, allora l'indicatore destro, che rimane sul lato sinistro. E invece, andiamo a vedere poi l'altro contributo, quello che avevamo appena visto dopo di questo. Vedete qui, la differenza è tutta qui. Sempre da interno partiamo, perché questo è importante. Poi poco prima di uscire l'indicatore, mi sposto. Vediamo che siamo liberi, e già mi sposto, perché non c'è nessuno, e così almeno sono tranquillissimo. E poi l'autocarro che sopraggiungeva è stato bravo, che non ha fatto gioco di prepotenza, ma si è fermato andandoci. Perché ogni tanto bisogna discutere, autocarri, autobus, credono che possono più o meno... Sì, girando a destra, io mi inserisco, tanto tu ti allarghi, sì, poi dopo però mi allargo e devo rientrare, e questo è abbastanza complicato. Però, detto questo, e lo ribadiamo, scusami perché sono un po' pedante, però bisogna andare piano, ok? Perché qualunque cosa accada, bisogna sempre moderare la velocità. Quella è la chiave di tutto, cioè se riusciamo ad andare piano, riusciamo a fare tutto. Ok? Anche in caso, malaugurato, l'abbiamo detto cento volte, di sinistro, comunque se vado piano... È lieve. No, ecco. Può succedere, perché nella vita tutti sbagliano. Siamo esseri umani. Siamo esseri umani, cioè, no. L'importante è non metterci in carico, quindi, soprattutto visto che siamo soggetti a continue distrazioni, è il messaggio Whatsapp, è la chiamata, è la cosa che passa in radio, è devo prendere la sigaretta elettronica, o quant'altro. Oppure, noi ci fermiamo sulle strisce pedonali, dare la precedenza del pedone, il ragazzo dietro, interessato alla fermare l'autobus, dove stava osservando delle ragazze, si è fermato, si è adagiato a noi. Si è adagiato a noi. Se si adagia piano, non succede nulla. Se no, partono gli airbag, danno, botta in faccia. È stato simpatico, perché c'è la ragazza, regge, dietro, sta guardando a sinistra. Oh, e tutto questo, poi noi la stiamo facendo dura, dal punto di vista delle rotonde, perché noi questa trasmissione, queste due puntate, le abbiamo strutturate in modo che vi diamo delle indicazioni su come percorrere le rotonde, ma poi, se andiamo a vedere bene, Marco, io credo che un buon 50-60% degli incidenti che cadono dentro le rotonde, cadono perché chi entra non dà precedenza. No, ma poi tagliano dall'interno all'esterno. Una tipica è quella del Tulipano, quando si arriva da Terni, tanti arrivano su insorpasso, stando sulla corsia di sinistra, e poi tagliano di netto a destra dentro Borgorio, senza guardare a fianco. Senza guardare chi viene, sì, sì. Allora, quello spartitraffico che si era creato era per avere un discorso di una sicurezza a causa del centro commerciale che si era sviluppato. e ha creato un po' di tubanze, diciamo. Malumori e di tubanze. Ecco quello. Adesso tutto si è regolarizzato, però il comportamento deve essere lineare. Se tu ti sposti da una corsia all'altra, devi sapere di dare la precedenza all'altro veicolo. Se cambi corsia devi dare la precedenza e devi mettere la freccia. Fine. Cioè non è che ci stanno tante cose da guardare. Guardate gli specchietti, ipoteticamente, retrovisore, quello a destra, e fine, freccia e dare la precedenza. Non è che è complicatissimo. No, un po' di attenzione, però siamo sempre di fretta. Bravo. Andiamo a vedere gli ultimi due contributi che riguardano una cosa che ho particolarmente a cuore, avendo avuto due figli che appunto erano suffruiti, essendo io stesso motociclista, quindi andiamo a vedere quello che accade con i ciclomotori nelle rotonde. Qui vedete un ragazzo che sta facendo scuola guida con il nostro Marco. Più, ecco, rimango sul lato interno, indicatore di direzione, nell'uscire indicatore, controllo a fianco, è stato bravissimo. È stato bravo, sì, veramente bravo. Se ci fosse stato un altro veicolo o si fermava o faceva il giro della rotatoria e poi siamo usciti. E qui è stato perfetto proprio. Il ragazzo è stato veramente bravo. Nessuna critica. Assolutamente. Voi capite allora perché voi capite perché in questo caso si raccomanda molta attenzione, lo ripeto, 200.000 volte al giorno. E è quello che mi manda in bestia sinceramente perché sulle due ruote ci si fa male e quindi bisogna tenere tanta tanta attenzione sia da parte di chi guida perché ci mancherebbe ma soprattutto da parte di chi come noi va su strada con le auto e quindi dobbiamo stare sempre attenti perché ripeto quando prendi una persona come me che sono motociclista come Marco che è motociclista anche lui sulla moto non hai moto, scooter o bicicletta non hai protezione non hai nulla quindi mi prendi e mi prendi in pieno quindi questo il rischio di farsi male è altissimo quindi eviterei io ho segni ovunque tutta la vita da motociclista ho segni ho segni anche 30 anni fa qui c'era il tecnico sono esperienze io dico sempre con le due ruote cadi poi se ti va bene nella vita ti fai meno male ma prima o poi cadi sempre andiamo a vedere l'ultimo contributo e poi ci salutiamo dai sempre un bravissimo ragazzo che conduce un motorino è così qua sempre indicatore controlla se non sopraggiunge nessuno però vedete già ha messo l'indicatore perché sa che va sulla corsia interna diciamo anche se qui è una corsia sola però dovrebbe rimanere più sul lato destro un pochino più centrale diciamo sì leggermente più però vabbè comunque ha fatto tutto benissimo sì 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 nell'insieme è stato bravo è stato bravo comunque era una corsia l'indicatore ha controllato l'importante è rallento controllo e faccio capire dove vado e quello è la base di tutto torniamo a quello che ci diceva all'inizio dell'altra puntata il vigile della compagnia di Rimini sono intersezioni quindi ricordatevelo sempre che bisogna dare la precedenza e bisogna andare piano poi le rotonde più o meno vengono da sole poi si può litigare si può discutere si manda a quel paese però se si va piano e ci si ricorda che chi viene da testa ha la precedenza normalmente si risolve tutto ok? sì l'attenzione è la prima cosa bravissima come sarà allora noi abbiamo concluso anche questa puntata vi ringraziamo ringraziamo i nostri sponsor ringraziamo tutti quelli che hanno aiutato a realizzare queste bellissime puntate su strada a Fonde Ronde come piace a noi e ringrazio Marco Pompili titolare delle assicurazioni Pompili che sono a Terni e Monte Castelli non erro quindi ok sì perché non gli bastava impazzire su Terni quindi si è perso pure a un po' di chilometri fuori e ci diamo appuntamento nella prossima puntata e non sveliamo di cosa parleremo perché ci sono da mente altre cose ancora sì sì gli argomenti sono molti se nel frattempo ci approvano il codice della strada ci farebbero un favore perché così parliamo di quello grazie a tutti e buonanotte buonanotte a tutti grazie a tutti